Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di Nuo Sicilia. Il deputato regionale Salvatore Geraci ha reagito alla notizia di una rissa che si è verificata durante una partita di calcio giovanile tra Sporting Termini e Fincantieri a Campo Felice di Roccella in provincia di Palermo. Ha espresso la sua forte condanna per l'aggressione e ha mostrato la sua vicinanza alle vittime. Sottolineato inoltre che lo sport dovrebbe essere incentrato su una sana competizione rispettosa delle regole e dei comportamenti leali. Ieri poveriggio gli agenti di Sant'Acata di Militello hanno eseguito un'ordinanza arrestando un 18enne sospettato di aver commesso un furto aggravato in collaborazione con altre persone ancora da identificare. Le indagini hanno mostrato che il giovane con l'aiuto di altri individui si sarebbe introdotto nella scuola Cesareo di Sant'Acata di Militello scavalcando il cancello rompendo una finestra e rubando diversi oggetti. A Catania alcuni migranti stanno coltivando ortaggi su mezzo ettaro di orto sociale fornito dall'Istituto Tecnico Agrario Filippo Eredia tra il litorale della Playa e la zona industriale. Quest'iniziativa vuole promuovere l'imprenditorialità, l'accoglienza e l'inclusione sociolavorativa di queste persone contrastando il caporalato, il lavoro nero e la discriminazione. Sole domani 3 febbraio 2023 in Sicilia, la protezione civile regionale infatti non ha diramato alcuna allerta meteo. Scongiurato ogni possibile rischio, cieli quindi tutto sommato sereni tra qualche nuvola passeggera su Palermo. Le temperature si mantengono piuttosto basse ma è risalita. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 17 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.